Nuovo insieme per vedere un altro piccolo passo della country line dance. È un passo molto comune nella line dance e ci serve per girare. Infatti oggi vedremo il passo giro step turn. Allora il passo giro come ho detto ci serve per girare, rimanendo comunque sul posto. Diciamo che il passo giro più frequente è il mezzo giro. Per effettuare un mezzo giro a sinistra devo fare in questo modo. Porto avanti il piede destro, ci porto il peso e mentre giro sposto il peso sul piede che è davanti. Se devo effettuare nuovamente un altro passo giro di mezzo, riporto avanti il piede destro e faccio la stessa cosa rigirandomi. In questo modo con due mezzi passi giri ho compiuto un giro completo. È anche possibile però che ci venga chiesto di effettuare un passo giro di un quarto. In questo caso se facciamo sempre un passo giro verso sinistra, piede destro avanti, giro di un quarto e sposto il peso sul piede sinistro. Di nuovo un quarto di giro a sinistra, piede destro avanti, ci porto il peso, giro di un quarto e sposto il peso a sinistra. Lo effetto di nuovo così lo vedete anche da dietro, sempre da un quarto di giro, avanti il destro, giro di un quarto, peso sul sinistro. Ancora, avanti il destro, giro di un quarto, peso sul sinistro. Qui con quattro quarti di giro ho compiuto un giro completo. Possono anche essere più piccoli i passi giri, nel senso che posso fare dei passettini da un ottavo addirittura. Quindi sempre facendo un passo giro a sinistra, avanti il destro, giro di un ottavo. Avete visto che il giro è minimo. Porto di nuovo avanti il destro e finisco con il mio ottavo. In questo modo con due ottavi ovviamente ho fatto un quarto di giro. Se invece facciamo un passo giro verso destra, si farà l'opposto. Porto avanti il piede sinistro, se faccio un mezzo giro, giro di mezzo e sposto il peso sul piede destro avanti. Di nuovo per effettuare un altro passo da mezzo giro verso destra, avanti il sinistro, giro di mezzo e porto il peso sul piede davanti che è il destro. Questo è il passo giro, ovvero lo step turn. I tempi come avete visto sono 1 e 2. Questo è tutto per oggi, ci vediamo al prossimo step.